DWR Doc è il software che ti consente di redigere il documento di valutazione dei rischi in maniera molto semplice e veloce. Il software è disponibile in due versioni che vedi nella pagina, le cui caratteristiche si differenziano essenzialmente perché nella versione full hai una suite di software complementari in grado di consentirti di realizzare la valutazione dei rischi in maniera ancora più completa e rapida e in più nella versione full è disponibile anche la banca dati attrezzature, cioè vi sono circa 87 attrezzature con le relative schede delle misure di prevenzione, i dpi da utilizzare e quindi è un prodotto più completo. Per quanto riguarda la fruibilità del prodotto, il software si caratterizza per essere molto semplice. Anche il DWR è un DWR non corposo, non con pezzi di normativa che puoi trovare ad esempio in altre tipologie di prodotti. Questo fa sì che il software è apprezzato proprio per questa caratteristica, nel senso che ti consente di realizzare un DWR come un abito sartoriale, specifico per l'azienda. Per maggiori informazioni mi puoi contattare allo 051 35 38 38 oppure via email infochiocciolai.drama.org Grazie